Iniziamo a prendere consapevolezza di dove siamo in questo momento. E' il nostro respiro. Inspiro, respiro. Ancora due volte. Inspiriamo fuori l'aria. E' l'ultima volta. Inspiro ed espiro. Ruotiamo un po'. Solamente due minuti di riscaldamento. Proprio per prendere consapevolezza anche del nostro corpo. Cambiamo verso avanti. Ruotiamo. Ancora. Ancora. E' un po'. Ruotiamo il capo. Verso destra e poi verso sinistra. Verso destra e poi verso sinistra. Destra e poi sinistra. Molto bene. Chiudiamo in avanti fuori l'aria. E ci apriamo. Inspirando. Fuori l'aria. Ci apriamo. Inspirando. Movimenti lenti. Cerchiamo proprio di portare l'attenzione sulla nostra colonna vertebrale. Iniziamo a mobilizzare. A muovere. Inspiro. Fuori l'aria. Inspirati. Apri bene. Fuori l'aria. Chiudi. Apriti ancora. Prendi tanta aria. Fuori l'aria. Chiudi. Ancora. Espira. Inspira. E espira. E poi inspira. Iniziamo. Andiamo un pochettino più giù. Verso il bacino. Portiamo verso destra e poi verso sinistra. Iniziamo a mobilizzare anche questa parte. Prendere consapevolezza, coscienza. Ok. E poi iniziamo a disegnare dei cerchi grandi in un senso. In un senso. E poi cambiamo il senso dall'altra parte. Sempre cerchi grandi. Molto bene. Possiamo avvicinare i piedi. Iniziamo con un roll down. Quindi consapevolezza. Partiamo dalla postura tadasana dello yoga. Inspiriamo. Ci allunghiamo. Partendo dalla fronte. Srotoliamo lentamente pian pianino verso il pavimento. Una vertebra dietro l'altra. Arriviamo giù. Inspiriamo. Ed espirando. Ritorniamo. Pian pianino sempre con una vertebra dietro l'altra. Ci allunghiamo. Inspiriamo. Partendo dalla fronte. Una goccia d'acqua scende. Srotola verso il pavimento pian pianino. Lentamente con controllo. Una vertebra alla volta. Arriviamo giù. Inspira. Ed espira. Ritorna pian pianino sempre con una vertebra dietro l'altra. E ti allunghi di nuovo. Inspiri. Parti dalla fronte. L'ultima volta. I piedi ben radicati a terra. Arriviamo. Inspira. Partendo dalla zona lombare. Srotoli e ritorni lentamente con una vertebra dietro l'altra. Espira. Ok. Solleviamo ora il ginocchio. Destro il braccio sinistro in alto. E abbassiamo. Cambiamo. Siamo. Muladhara chakra. Ok. Scendiamo. Abbassiamo. E di nuovo. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Sollevo. E espirando a basso. Molto importante. Sentire. Ok. L'equilibrio. I piedi. La pianta del piede è ben appoggiata a terra. Cresce. Allungati. Comunque attivazione degli addominali per mantenere l'allungamento. Ok. La stabilità. L'equilibrio. E di nuovo. Inspira. Cresce. Allungati bene. Fuori l'aria. Scendi. Due volte. Ci allunghiamo. Inspiriamo. Fuori l'aria. Scendiamo. Cambiamo. Inspiriamo. Inspiriamo. Fuori l'aria. Scendiamo. Molto bene. Ora andiamo in avanti. Ci allunghiamo. Gamba destra. E ritorniamo. Sempre la gamba destra. Vado in avanti. Inspiro. E ritorno. Espiro. E di nuovo. Inspira. Allungati bene. E ritorna. E espira. Inspira. Allungati. Torna e ispira. Ancora. Inspira. Torno e ispiro. Inspiro. Torno e ispiro. Ed inspiro. Mi allungo. Torno e ispiro. Guarda che aggiungo una cosa. Inspiro. Sollevo il ginocchio della gamba sinistra. Equilibrio. Braccia vanno dietro. Abbasso la gamba. Ruoto le braccia. Inspiro. Parto dalla fronte. Roll down. E espiro. Arriva giù. Inspira. Ed espira. Dalla zona lombare. Ritorna con una vertebra dietro l'altra. Allungati. Portiamo dietro la nostra gamba sinistra. Come prima. E ritorniamo. Indietro. Riprendiamo. Avanti. Inspira. Equilibrio. Ginocchio sinistro. Sale. Braccia vanno dietro. Ti allunghi. Abbassi la gamba. Sollevi le braccia. Ruoti. Inspiri. Parti dalla fronte. Srotoli. Scendi. Espiri. Arriva giù. Inspira. Ritorna. Espira. Con una vertebra dietro l'altra ancora. Andiamo dietro con la gamba sinistra. Allunghiamo le braccia in alto. Torniamo anche con la destra. Bravi. Ancora uno. Inspira. Espira. Cresci. Inspira. E espirando scendi. Arriva giù. Inspira. Espira. Ritorna. Occhio che vado dietro con la sinistra. Mi allungo. E ritorno anche con la destra. Bravissimi. L'ultima volta. Inspiro. Espiro. Sollevo il ginocchio. Abbasso il ruoto. Le braccia che le si sollevano. In. Scendo. Arrivo giù. Inspiro. Ritorno. Espiro. Con una vertebra alla volta. E vado dietro con la gamba sinistra. E anche con la destra. Ottimo. Cambiamo gamba. Andiamo in avanti. Solo avanti. Inspiro. Torno. Inspiro. Mi allungo. E ritorno. Inspiro. Piedi ben radicati a terra. Il piede dietro è appoggiato. Ok? Inspiro. Equilibrio. Attivazione degli addominali. Siete bravissimi. Inspirate. Su bene in alto. Espirate. Ritornate. Inspiro. Un po' più fluido. Un po' più elegante. Inspiro. Va benissimo questo. Espiro. Ritorno. Ed è l'ultimo. Inspiro. Espiro. Ritorno. Aggiungo. Vi ricordate, vero? Inspiro. Equilibrio. Consapevolezza sull'allungamento. Abbasso la gamba. Sullevo le braccia. Inspiro. Fuori l'aria. Scendo. Inspiro. Arriva giù. Inspira. Fuori l'aria. Ritorna ed espira. Ora dietro va la gamba destra. Allungati. E anche la sinistra. Wow. Avanti. Inspiro. Sollevo. Abbasso. Sollevo le braccia. Inspiro. Ruoto. Scendo. Fuori l'aria. Arriva giù. Inspira. Ritorna e ispira. Porta dietro la gamba destra. Allungati. E anche la sinistra va dietro. Ancora. Inspiro. Su. Ginocchio. Equilibrio. Controllo. Abbasso. Sollevo le braccia. Ruoto. Inspiro. Parto dalla fronte. Fuori l'aria. Scendo. Inspiro. Arrivo giù. Inspiro. Espiro. Ritorno. Vado dietro con la gamba destra. La sinistra. E l'ultima volta. Vieni avanti. Allungati. Inspira. Fluido. Equilibrio. Inspiro. Scendo. Fuori l'aria. Espiro. Arriva giù. Inspira. E ritorna. Gamba destra dietro. E anche la gamba sinistra. Ottimo. Solleva le braccia lateralmente. Sale la destra. E scende. Punta sale. Martello scende. Equilibrio. Su. Siamo ancora sul primo chakra. Su. Ancora. Sali. E. Sali. Abassi. Sollevo. Rimani. Equilibrio. Su. Sulle braccia. Giù le braccia. Sulle braccia. Devo attivare. Ok. I muscoli del pavimento pelvico. Su. Scendo. Su. Occhio. Appoggio avanti. Piego di nuovo il ginocchio. Sollevo le braccia. Ah. Scendo. Ok. Quindi. Inspira qua. E. Espira. Torna. Il ginocchio destro è piegato. Destro. Inspiro. Fletti la colonna. Mobilizzo. Ok. Lateralmente. Vai. Uno. E. Ritorna. Molto bene. Ancora. Ti allunghi. Inspiri. Torni. Ancora. Torno. Vieni. Ci giri avanti. Su. E ritorni. Ottimo. Solleva le braccia. Cambio gamba. La sinistra. Sale. E scende. Punta sale. Martello scende. Attiva gli addominali. Ottimo. Sale. Scende. Sale. Vi ricordo le spalle. Lontane dalle orecchie. Ovvero. Allungo bene. Allungamento assiale della colonna. Il bacino si allinea. Le creste iliache allineate. Gli addominali sono attivi. E mi fermo. Equilibrio. Braccia. Braccia. Braccia inspira. Scendi. Braccia inspira. Apri. Braccia inspira. Apri. Braccia inspira. Apri. Vieni avanti. Braccia. Il guerriero 2 dello yoga. Inspira qua. Ispira. Espira. Torni. Controlla. Inspira. È una flessione laterale della colonna. Mobilizzo lateralmente la colonna. Ok? Inspira. Espira. Inspira. Inspira. Porta la tua consapevolezza. L'attenzione sulla colonna. Inspira. Espira. È l'ultimo. Inspira. Espira. Torni. E ritorniamo. Ottimo. Ultimo in piedi. Apriamo le braccia. Tutto bene? Sollevo la gamba destra avanti. Apro lateralmente. Equilibrio. Piego. E ritorno. Cambio gamba. Sinistra. Apro lateralmente. E' proprio quello. L'equilibrio. E' importante l'equilibrio. Inspiro. Fuori la gamba. Scusate. Piego. Scendo. E ritorno. E ancora. Inspira. Apro. Equilibrio. Piego le ginocchia. Bravissimi. Torno. Ancora. Inspira. Cresci. Apri fuori. Espira. Bravi. Visto come avete già migliorato l'equilibrio. Fantastici. Inspiro. Espiro. Inspiro. Bravi. L'ultimo giro. Vai. Inspira. Cresci. Espira. Apri. Piega. Torna. Inspira. Sali. Apri. Wow. Ma non vi muovete più. Bravissimi. E ritorniamo. Ottimo. Andiamo dietro sul tappetino. Inspiriamo. Ci allunghiamo bene. Partiamo dalla fronte. Srotoliamo. Scendiamo con una vertebra dietro l'altra. Appoggiamo le mani. Camminiamo in avanti con tutte e due le mani. Attiva gli addominali. Cambio di nuovo. Cammino dietro. Srotolo. Ritorno con una vertebra alla volta. Secondo chakra. Mani dietro il capo. Solleva il ginocchio destro. Ruota il busto verso destra. Torna. Inspira. Torna e inspira. Ruota destra. Torna e inspira. Ruota destra. Torna e inspira. E ruota destra. Fantastici. Torno e inspiro. Abbasso la gamba. Ruoto le braccia e inspiro. Fuori l'aria. Scendo e inspiro. Cammino in avanti con tutte e due le mani. Arrivo nella posizione dell'asse. Cammino all'indietro con tutte e due le mani. E ritorno. Srotolo. Una vertebra alla volta. Mani dietro il capo. Ginocchio sinistro. Sale. Inspira. Espira. Ruota il busto da sinistra. Il ginocchio non si apre. Inspiro. Riemane avanti. Allineato. Fuori ruoto. Inspiro. Torno. Equilibrio. Espiro. Ruoto. Inspira. Torno. Allungati bene in alto. Allunghamento assiale. Fuori ruota. E l'ultimo. Inspira. Fuori ruota. Non fate finta di ruotare. Inspiro. Abbasso la gamba. Occhio che mi fermo giù. Inspiro. Inspiro. Srotolo. Scendo. Camino avanti. Siamo ancora sul secondo chakra. Svadisana. Sollevo la gamba destra dietro. Porto il ginocchio. Porto il ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Ancora. Sollevo la gamba destra dietro. Mi allungo. Ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Ancora. Su. Ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Su. Ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Appoggio la gamba dietro. Camino. Con tutte e due le mani. Per riposare un po'. E ritorno con una vertebra alla volta. Inspiro. Fuori l'aria. Ascendo e espiro. Camino in avanti con tutte e due le mani. Posizione dell'asse. Ti allunghi. Sollevi la gamba sinistra. Ti allunghi dietro. Inspiri. Ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Cercate di arrotondare la colonna. Vi allungate. Inspirate. Ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Ancora. Su. Ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Su. Ed è l'ultimo. Inspiro. Ginocchio alla fronte. La fronte al ginocchio. Asse. Appoggia le ginocchia. Siediti un po' dietro sui talloni. Tutto bene? Perfetto. Ritorniamo. e ci sediamo. Perfetto. Allungate bene la colonna. Ci allunghiamo bene in alto. Andiamo a lavorare il terzo chakra. Dietro l'ombelicco. Mani pura. Allunghiamo le braccia. Non ne aperte ne troppo chiuse. In questa posizione. Solleviamo la gamba destra. La estendiamo. E la flettiamo. La gamba sinistra. E la flettiamo. Ottimo. Non crollate. Ok? Restiamo su in allungamento. Perfetto. Scendo. Attivo gli addominali. Vero? Fuori l'aria. Scendi. Fuori l'aria. La manina morta no. Fuori. Cresci. Mantieni, mantieni. Non allargare le ginocchia. Lo so, è proprio quello. Non è questo, ok? E lo so. Su. Scendo. Avete perso la zona lombare? No. Su. Inspiro. Fuori. Occhio. La destra. Allungo le braccia. Scendo con una vertebra. Alla volta le ginocchia restano alla stessa altezza. Inspiro. Espiro. Ritorno. Fletto. Apro le braccia. Fuori l'aria. Alla sinistra. Braccia. Inspira. Roll down. Scendi solo fino all'altezza della braccia. punta delle scappole. Inspiro. Fuori salgo. Mi allungo. Fletto. Apro. Mi allungo. Non le ginocchia. Uno. Due. Fuori scendi. Una vertebra alla volta. Inspira. Fuori sali. Allungati. Abassa. Allungo. Non allargo le ginocchia. Uno. Due. Fuori scendi. Con una vertebra alla volta. Mantenete l'allungamento della gamba. E ritorno. Fletto. Apro. Abbiamo perso la schiena. Su. Fuori l'aria. Inspiro. Cresco. Fuori scendi. Inspiro. Fuori salgo. Espiro. Uno. Due. Inspiro. Su. Espiro. Chiudo. Inspiro. Fuori scendo le ginocchia allineate. Inspiro. Questo no. Ora siamo. Ora è adesso. Ci allunghiamo. Apriamo un po' le ginocchia. Tutto bene? Però le chiudiamo. Era solo per rilassare un po'. Apro le braccia. Le appoggio. Dai. Che sono buona oggi. E stendo tutte e due le gambe. Fletto le ginocchia. Non è questo. È questo. Fuori l'aria. Dentro l'aria. Fuori l'aria. Devo sentire gli addominali. Ottimo. Oltre la gamba. Vabbè. Quella è normale. Non facciamo le smorfiete che vengono le rughe. Distendiamo bene il viso. Possiamo sorridere. Torno. Espiro. Fantastiche. Brave. Torno. Tre. Torna. Allungati. Fuori due. Torno. E fuori l'aria. Tengo. Braccia. Braccia. Scendo. Estendo le gambe. Inspiro. Mi tuffo in avanti. Fuori l'aria. Dorso delle mani a terra. Ritorno con una vertebra alla volta. Inspira. Fuori l'aria. Dorso delle mani a terra. Ritorno con una vertebra alla volta. Inspiro. Fuori. Mi tuffo. Torno. Ed è l'ultimo. Iniziamo a salire. Ok. Anahata chakra. Scendo. E mi apro. Ok. Ora possiamo chiudere le gambe. Lavoriamo all'altezza del cuore. Quindi. Inspiriamo. Solleviamo lo sterno. Apriamo le spalle. Fuori l'aria. Scendiamo con una vertebra alla volta. E saliamo. Inspiriamo. Anzi. Chiudete i piedi in questa posizione. Fuori l'aria perché è più comodo. E salgo. Apro bene. Lo sterno sale. Le scappole scendono. Le clavicole si allargano. Parto dalla fronte. Mobilizzo la colonna. Scendo con una vertebra alla volta. Mi allungo in avanti. Salgo e mi apro. Inspira. Parti dalla fronte. Scendi e espira con una vertebra alla volta. Allungati. Apriti. Inspira. Parti dalla fronte. Scendi e espira. E quindi ti apri. Inspiri. E l'ultimo. Fuori l'aria. Scendi e espirando. Ti allunghi bene. Cresci. Ottimo. Andiamo in ginocchio. Ci sediamo sui talloni. Può farlo anche da seduta. Tranquilla. Andiamo ancora ad aprire. Inspiriamo. Partiamo dalla fronte. Scendiamo e espiriamo. E ci allunghiamo. Ritorniamo con una vertebra alla volta. Di nuovo. Quindi inspira. Parti dalla fronte. Srotola. Scendi e espira. Ti allunghi. E ritorni. Inspiro. Salgo. Apro bene il petto. Bravissimi. Inspirate. Fate un bel inspiro tutte le volte. Scendete. Allungatevi. Inspiro. Espiro. Ritorno. Sali. Cresci. Apriti bene. Inspira. Fuori. Scendi. Espira. Allungati bene in avanti. E ritorna lentamente. Ancora due volte. Apri. Sali. Prendi tanta aria. Apri bene il petto. Fuori l'aria. Scendi. Allungati bene avanti. Inspira. E espira. Ritorna. Questo sarà l'ultimo. Inspira. Fuori. Scendi. Allungati. Però ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. Perché andiamo in avanti. Posizione prona. Proni sul tappetino. Continua il lavoro di prima. Mani sotto le spalle. Gomiti alti. La fronte appoggia a terra. Inspiro. Salgo con una vertebra alla volta. Cresco. Inspiro. Piego i gomiti. Scendo. Fronte a terra. Inspira. Fuori. Sali. Abassa le scappole. Spale lontane dalle orecchie. Cresci. Inspira. Fuori sceglie. Espira. Inspira. Fuori sali. Abassa le scappole. Cresci. Inspira. Fuori sceglie. Ed è l'ultimo. Inspiro. Abbasso i gomiti. Salgo. fuori scendo. Inspiro. Piego i gomiti. Ispiro scendo. Prendi il piede. Destro. Solo il destro. Ok. E salgo. Allungo il braccio. Inspiro. Fuori scendo. Inspira. Fuori scendi. Inspira. Fuori scendi. Espira. Inspira. Espira. Cambio gamba. Inspiro. Cresco. Fuori scendo. Inspiro. Espiro. Scendo. Inspira. Sali. Espira. Scendi. È l'ultimo. Inspira. Fuori scendi. Mani sotto le spalle. Sali di nuovo. E ti siedi dietro sui talloni. Molto bene. Torniamo. Andiamo. Andiamo a sederci. e ci sdraiamo in posizione supina. Andiamo sul quinto chakra. Ok. Ci sdraiamo. Inspiriamo. Fuori l'aria. Briggi. Srotoliamo il bacino lentamente verso il soffitto con una vertebra dietro l'altra. Inspiro. Fuori l'aria da sotto le scapole. Scendo ed espiro. Inspira. Fuori l'aria. Sali e espira. Una vertebra dietro l'altra sale. Inspira. Fuori l'aria. Scendi ed espira. Ancora. Inspira. Fuori l'aria. Sali e espira. Lu. Fai un video. Fai un video che prendi tutti. Fuori l'aria. Scendi e espira. Ancora. Srotola. Sali e inspira. Cresci. Fuori scendi e espira. Inspiriamo. Espiriamo. Saliamo. e ci fermiamo. Su. Bacino alto. Solleviamo la gamba destra. Fletto il piede. Fletto il piede. Fletto. Appoggio. Appoggio. Sinistra. Flex. Fletto. Ultimi due. Sale la destra. Inspira. Fletti. Fuori l'aria. Appoggia. L'ultimo. Inspira. Sali. Flex. Fuori scendo. Appoggio. Inspiro. E da sotto le scapole. Scendo e ispirando con una vertebra dietro l'altra. Punti aperti. Taloni uniti. Stessa cosa. Retroversione del bacino. Sali. Allungati bene in alto. Inspira. Fuori l'aria. Da sotto le scapole. Scendi. Espira. Inspira. Fuori. Sali. Una vertebra dietro l'altra. Cresci. Inspira. Da sotto le scapole. Fuori. Scendi. Ed espira. Ancora due. Inspiro. Fuori lentamente. Salgo. Una vertebra dietro l'altra. Inspiro. Fuori. Scendo. Ed è l'ultimo. Inspira. Fuori. Sali. Inspiro. Da sotto le scapole. Fuori l'aria. Scendi. Molto bene. Braccia alte. Inspiro. Salgo. Salgo con una vertebra. Alla volta. Andiamo sul sesto chakra. Abbiamo finito. Quadrupedia. Appoggiamo i gomiti. Qua dovremo restare per un po' di respiri. Ok? E vi concentrate proprio all'altezza del terzo occhio. Qua. Ok? Quindi estendo le gambe mi allungo e mi fermo qua. Respira. Inspira. 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 Espira. Inspira. e spira inspira e spira e spira ok appoggio le ginocchia l'ultimo e ritorniamo appoggiamo e stendiamo le gambe guardate l'ultimo schiena rotondissima rotonda 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 inspira vieni su parti dalla fronte schiena rotondissima espira vai e ti allunghi e di nuovo cresci sali schiena rotondissima vieni avanti e poi ti allunghi inspira parti dalla fronte mento verso il petto schiena rotondissima e questo è l'ultimo inspiro cresco schiena rotondissima parto dalla fronte schiena rotonda ottimo appoggio le ginocchia mi allungo molto bene torniamo bravissima come vi sentite? abbiamo percorso tutti i chakra ok? sono sette abbiamo fatto sei siamo arrivati all'ultimo ci fermiamo solo con sapevolezza ok? allunghiamo la colonna manteniamo un pochettino la postura e la respirazione inspiriamo ed espiriamo inspiro allargo bene la cassa toracica no 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 espiro svuoto le costole vanno verso il pavimento pelvico ad infilarsi nel pavimento pelvico inspira quindi allarga la cassa toracica nei tre piani dello spazio allunga la colonna espira svuota chiudi come un corsetto allarghi bene in ispirazione chiudi svuoti in ispirazione e ancora inspiriamo e espiriamo svuotiamo inspiriamo fuori l'aria svuotiamo inspiriamo 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 espiriamo e l'ultimo inspira ed espira ed espira tre respiri inspiro fuori l'aria inspira ci connettiamo proprio guardate che bello in alto ispirate ispirate grazie bravissimi bravi bravi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti